Benvenuti su Calcio360, il posto giusto per chi ama il calcio. In questi ultimi tempi, si è molto discusso della stesura dei calendari di Serie A. Molti si domandano se questi siano stilati in modo del tutto imparziale, o se vi siano invece delle preferenze per alcune squadre. Prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Al centro di questa controversia c'è Andrea Butti, attuale head of competition and operation della Serie A, Butti. Prima di ricoprire questo ruolo, ha lavorato per l'Inter per 11 anni, dal 2002 al 2013, ricoprendo anche il ruolo di team manager della prima squadra dal 2007 al 2012. Questa esperienza pregressa all'Inter ha fatto sorgere dei dubbi sulla sua imparzialità portando ad ipotizzare che, Butti possa avere delle preferenze per l'Inter, e che queste preferenze possano influenzare la stesura dei calendari. In realtà, non ci sono prove concrete che supportino queste ipotesi. Tuttavia, il fatto che Butti abbia un passato così marcato all'Inter ha sicuramente alimentato i dubbi sulla sua imparzialità. Per chiarire la situazione, sarebbe necessario un'indagine indipendente che analizzi i calendari delle ultime stagioni per verificare se vi, siano effettivamente delle differenze significative tra le squadre. Inoltre, sarebbe opportuno che la Serie A adottasse un sistema di stesura dei calendari più trasparente, che preveda la partecipazione di tutti i club e che sia basato su criteri oggettivi. In un mondo ideale, le decisioni sulla stesura del calendario dovrebbero essere prese da figure neutrali, al di sopra di ogni sospetto. Pertanto la situazione attuale lascia molti dubbi. Se volete condividere la vostra opinione su questa questione spinosa lasciate un mi piace e fatecelo sapere in, un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio!